Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Dare è un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'Urban Innovative Action ed è uno dei sette progetti particolarmente innovativi selezionati a livello europeo nell'ambito della transizione digitale. Con Dare sviluppiamo un nuovo approccio alla rigenerazione urbana in una logica collaborativa e supportata appunto dal digitale e lo testiamo nel quartiere della Darsena di Ravenna. Nel quartiere Darsena di Ravenna si è sviluppato il porto cittadino, poi è stato dismesso una ventina di anni fa, lasciando però suggestive archeologie industriali sottoutilizzate e a ridosso un'area residenziale popolare e verde, simbolo di accoglienza ma anche fragile e a tratti stigmatizzata. La rigenerazione qui è un percorso reale, voluto e avviato con interventi infrastrutturali, sociali, culturali e imprenditoriali. Il progetto Dare, sostenuto dall'Unione Europea come Urban Innovative Action, ha attivato un laboratorio di rigenerazione e collaborazione supportate dal digitale. La piattaforma Darsena Ravenna a Prodo Comune innova la narrazione del quartiere, corale e di prospettiva con una super mappa e racconti interattivi che consentono di comprenderne l'evoluzione. Le applicazioni digitali in via di sviluppo supportano la collaborazione tra le persone e l'integrazione tra progetti, pilastri dell'approccio Dare. La piattaforma integra man mano dati e strumenti utili per la condivisione di opportunità e proposte per la formazione e la partecipazione dei cittadini, per monitorare i progressi con i dati alla mano. Dare si appresta a lanciare un percorso di partecipazione completamente innovativo. Il percorso verso la tattica Darsena 2022-2023 porterà ad elaborare una tattica per la rigenerazione della Darsena coinvolgendo enti no profit, imprese, proprietari di aree dismesse e cittadini interessati a sviluppare e investire su idee progettuali che abbiano come oggetto la rigenerazione urbana della Darsena di Ravenna. Siamo partiti da un lavoro di mappatura e di analisi dei dati raccolti sulla Darsena. Sono già stati individuati i primi tre scenari progettuali che corrispondono alle peculiarità del quartiere. Abbiamo la Darsena innovativa, la Darsena multifunzionale e la Darsena adattiva. Il percorso verso la tattica Darsena 2022-2023 passa adesso attraverso una chiamata a raccolta delle progettualità locali e non solo. Stiamo lavorando per sollecitare, selezionare ma anche e soprattutto per accompagnare i progetti ad integrarsi tra loro, a trovare soluzioni di fattibilità tecnica ed economica e a sperimentare forme di finanza innovativa, cioè in pratica a prendere forma e realizzarsi. Tutto questo lo faremo ragionando sui tre scenari tra loro alternativi che possono aggregare i progetti. Li racconteremo ai cittadini e chiederemo loro tramite un esercizio di e-democracy di indicarci quale dovrà essere appunto la prima tattica da mettere in campo. L'invito è aperto, è consultabile sul portale della rigenerazione urbana della Darsena www.darsenaravenna.it che vi invitiamo a navigare per conoscere meglio questo affascinante quartiere, il suo passato e il suo presente e a progettarne il futuro insieme. L'invito darà avvio anche a una vetrina digitale nella quale sarà possibile condividere idee e creare partenariati e collaborazioni. Da febbraio il gruppo di lavoro Dare analizzerà i progetti presentati. Le idee di progetto selezionate avranno come premio innanzitutto l'accesso ad un evento di matchmaking immobiliare che sarà organizzato da Dare in Darsena il 26 e 27 aprile del 2022 e che stimolerà l'incontro tra gli imprenditori, i fondi di investimento e i proprietari.